Salve a tutti ragazzi, al vostro GustoLugust88, come state? Spero tutto quanto bene, spero abbiate passato l'ennesima domenica, l'ennesimo weekend del lockdown in maniera simpatica e serena con tutti quanti i vostri familiari Parliamo di una partita veramente importante quanto inutile, devo dire, quest'oggi cioè la vittoria della Lazio contro il Verona Importante perché sono tre punti fondamentali che ci permettono ancora di sperare nell'Europa in generale sia nell'Europa League che nell'Europa che conta, visto che siamo tutti quanti comunque ancora attaccati e non c'è neanche la certezza di entrare in Europa League E' totalmente inutile perché chi doveva vincere ha vinto e quindi eccoci qua totalmente in balia di noi stessi E quando la Lazio è in balia di se stessa a me è una cosa che mi dà un po' fastidio perché spesso e volentieri noi falliamo quando siamo in queste condizioni Adesso inizia un filotto di partite veramente importanti Napoli e Milan sono un test fondamentale per testare le reali ambizioni di questa squadra che ovviamente è chiamata a vincere e a convincere perché purtroppo quest'anno il campionato è così Oggi è stata una partita veramente importante e ripeto, importante e inutile, spero di essere stato chiaro perché mi riferisco al match con questi termini Sugli scudi Marusic che è diventato un giocatore veramente indispensabile per la Lazio Molto male i soliti noti che ormai mi sono anche rotto le palle di ripetere i nomi quindi la smetto Fondamentale il gol di Sergei Milinkovic-Savic nel finale Malgrado non abbia fatto la miglior partita di sempre Sergei comunque ragazzi è un giocatore incredibile che ritengo quest'anno ci saluterà perché è un giocatore di livello superiore Probabilmente secondo me andrà la Juventus perché la Juve al centrocampo fa cagare E un giocatore come Milinkovic gli serve come il pane Questa è una mia idea Detto ciò, amici miei Ebbene secondo me che le gerarchie celesti e i magnati del calcio i grandi uomini dietro al pallone iniziano a interrogarsi su quello che è lo sport che loro vogliono mostrare alle persone perché il calcio è uno sport di contatto il calcio è uno sport in cui francamente le simulazioni e le mezze checchiette in campo che si rirotolano a terra per un contrasto ha rotto anche un po' le palle Il gol di Gayset oggi era da annullare perché secondo me l'attaccante equadoregno sbraccia un po' più del dovuto e quindi era giusto annullare il gol però è anche vero che spesso e volentieri vediamo queste scene assurde di persone che si rirotolano a terra quando poi invece magari mi capita di guardare un video su YouTube in cui ci sono gli highlights di partite di basket americano le partite di NBA appunto le partite di rugby, le partite di football ma anche nei partiti di pallavolo c'è più virilità c'è uno sport di mammolette in cui la gente si rodola in cui ci si inganna a vicenda nel tentativo di prendere punizioni in cui appena c'è un contatto si casca per terra quando un tempo invece cascare per terra era disonorevole Batistuda, Drogba ancora prima che so io Alan Shearer sta gente qua non cascava per terra Ibrahimovic tuttora è uno di quelli che ancora ha questa morale gente che non casca gente che non simula invece adesso Neymar sta gente che appena li tocca chiesa della Juve insostenibile e noi abbiamo un esempio perché Simone Inzaghi da quel punto di vista era veramente una merda ragazzi tocca dirlo una merda uno dei giocatori più fastidiosi e più simulatori della storia del calcio Inzaghi e forse è questo il motivo per cui non mi riesce ancora a essere totalmente simpatico malgrado ritengo che stia facendo grandi cose la Lazio è bene che il calcio riacquisti la sua componente maschia perché altrimenti andassero tutti quanti a vendere lupini fuori dagli stati detto questo dalla terra e dallo spazio chiediamo sempre Forza Lazio iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne sapete sulla partita in un commento e niente sempre Forza Lazio iscrivetevi al canale